Il burattino che ha perso il suo mondo, il testo parla di un burattino che gioca con il mondo e quindi si diverte in base ai suoi capricci a tenerci a testa in giù e vive e fa vivere chi vive questo mondo nella falsità. Ora in questa situazione, in questo contesto, il burattino si è alzato dalla sua sedia e sporgendosi dal balcone ha perso il mondo che sta cercando di recuperare. Le pareti, i corridoi e addirittura i balconi della Galleria San Giorgio Arte faranno da palcoscenico fino al 19 settembre per la mostra di arti figurative Parole in Rame ideata dai Diro, duo artistico composto da Patrizia Rossini e Vincenzo Di Cillo. Protagonista principale delle loro opere, come suggerisce il nome dell'esposizione, è il rame, materiale duttile e in continua evoluzione, proprio come la vita. Dal burattino che si affaccia su Via Sparano fino al pappamondo infilzato dalle posate, le creazioni già di per sé pregne di eloquenza, sono accompagnate da testi inediti per fondersi con la loro intensità e la loro materialità. Dal punto di vista simbolico rappresenta quel vuoto interiore che la società di oggi ha, per cui ci siamo pappati davvero tutto e quindi diventa difficile poter ricordare o poter considerare che ci sono delle cose importanti, che non c'è bisogno assolutamente e sempre di dover riempire qualcosa perché anche quello che può sembrare un vuoto in realtà non è vuoto. Questa galleria ha come mission quella di valorizzare molto gli artisti della nostra città. Questo praticamente per noi, almeno nelle intenzioni, vuol diventare un salotto culturale della città di Bari. Quindi ospitare una mostra di due bravi artisti baresi mi sembra doveroso. A parte che io l'ho già visti quando questa mostra era al Consiglio regionale, mi era piaciuta molto quindi ho voluto sicuramente portarli anche nella nostra galleria. Qualche altro progetto in cantiere? Sicuramente, tutto in itinere.